segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te 779 giorni di prigionia per questo bambino ragazzino giovanni brusca dall'ordine liberatevi come diceva il dottor sabella del cagnolino questo vuol dire uccidetelo e chi è che lo fa e sono in quattro lì quel giorno enzo brusca che il fratello di giovanni brusca si voleva porre si voleva porre enzo brusca ha cercato perché ci giocava insieme voi pensate gente che ci gioca insieme a certo punto ormai da due anni più che deve improvviso ammazzare invece l'ordine è stato vincenzo chiodo è l'esecutore insieme agli altri materiale vi prego adesso ascoltate come racconta proprio vincenzo chiodo gli ultimi attimi di vita di questo ragazzino perché mai aveva 15 anni sono durissimi ma bisogna ascoltarli prego io ho detto al bambino di mettersi in un angolo cioè vicino al letto quasi ai piedi del letto con le braccia alzate con la faccia al muro allora il bambino per come io ho detto si è messo faccia al muro io ci sono andato da dietro e ci ho messo la corda a collo tirandolo con uno sbalzo forte me lo sono tirato indietro e l'ho appoggiato a terra enzo brusca si è messo sopra le braccia inchiodandolo in questa maniera e monticciolo si è messo sulle gambe del bambino per evitare che si muoveva nel momento dell'aggressione che io ho buttato il bambino e monticciolo si stava già avviando per tenere le gambe gli dice mi dispiace rivolto al bambino tuo papà ha fatto il cornuto il bambino non ha capito niente perché non se l'aspettava non si aspettava niente e poi il bambino ormai non era come voglio dire non aveva la reazione di un bambino sembrava molle anche se non ci mancava mangiare non ci mancava niente ma sicuramente la mancanza di libertà il bambino diciamo era molto molle era tenero sembrava fatto di burro cioè questo il bambino penso non ha capito niente sto morendo penso non l'abbia neanche capito il bambino ha fatto uno sbalzo di reazione uno solo e lento ha fatto solo questo e non si è mosso più solo gli occhi cioè girava gli occhi io ho spogliato il bambino il bambino era urinato si era fatto anche addosso dalla paura dopo averlo spogliato ci abbiamo tolto insomma aveva un orologio da polso e tutto abbiamo versato l'acido nel fusto e abbiamo preso il bambino io ho preso il bambino io l'ho preso per i piedi e monticciolo e brusca l'hanno preso per un braccioluno così l'abbiamo messo nell'acido e ce ne siamo andati sopra insomma sono uscito perché lì dentro la puzza dell'acido era cioè si soffocava lì dentro e poi poi siamo andati tutti a dormire poi parla